Gli autori che hanno parlato? Sì, sì, come voi. E poi si fanno domande in genere? O si decide di farle a metà o alla fine, oppure quando c'è qualcosa di particolarmente importante, come preferite. Sì, perché come dicevo a Umberto, dividiamo una prima parte, parliamo noi, una seconda parla lui e poi diamo spazio alle domande. Perfetto. No, ovviamente ci mostrerete delle altre foto. Allora, siamo a 98, direi che volenti o nolenti, cominciamo cinque minuti prima, visto che i due interpreti principali sono già arrivati. Allora, buonasera a tutti da parte del ciclo fotografico Vicenza, nella persona mia, Purtroppo, Alberto Colognato. Abbiamo invitato tramite la FIAF il gruppo Mignon e Umberto Verdoliva, entrambi sono nell'ambito fotografico persone conosciutissime. Umberto poi, scrivendo su PhotoIt, si è ritagliato uno spazio nel nostro cuore. E Giampaolo Romagnosi, il gruppo Mignon, perché è stato uno degli iniziatori qui in Italia della street photography, grazie anche alle conoscenze che ha avuto con la critica americana. Benvenuti a tutti, quindi vedo la gente da tutta Italia, oltre che il nostro circolo. Lascio la parola a chi di voi due comincia. Bene, grazie dell'invito da parte di tutto il gruppo Mignon. Sono collegati tutti, credo, anche come partecipanti. Dividiamo la serata in due fasi. Una parte parlo io per il gruppo Mignon, la seconda parte Verdoliva. Ci diamo lì circa sui 30-40 minuti al massimo. Lì cronometro, perché poi quando comincio a parlare di fotografia non mi fermo più e quindi anche se non arrivo alla fine mi zittisco e passerò la parola. Di solito noi quando parliamo di fotografie di strada facciamo i nostri soliti corsi, tipo il fotoclub di Vicenza ci invita. Stiamo lì tutto un sabato, una domenica e parliamo di fotografie di strada. Quindi voi capite che dare così degli elementi anche solo per capire di che cosa stiamo parlando. Un'oretta è veramente poco, però daremmo degli input sia facendo vedere delle immagini che dando appunto delle indicazioni affinché chi è interessato a approfondire abbia degli elementi su cui lavorare. Io comincio facendovi vedere delle immagini perché ci abbiamo lavorato in questo periodo. Nel frattempo vi leggo due minuti da un libro che avevo nel comodino da diverso tempo, non so se lo vedete, Istanbul di Orhan Pamuk. È un libro che parla dei suoi ricordi, del suo rapporto con la città. Parto da alcune righe di un romanzo per un motivo ben preciso. Intanto vi condivido, vediamo se io riesco a condividere delle immagini. Voi vedete le immagini? Sì, il tuo sabraschermo, la bambina sulla porta. Intanto le immagini vanno e vi leggo queste semplici frasi. Negli anni successivi è stato più piacevole marinare la scuola perché lo facevo all'insepputa degli altri. Il senso di colpa rendeva più prezioso ogni mio passo in città. Non avendo in testa altri obiettivi oltre a quello di non andare a scuola, durante le mie camminate ero attratto da quei particolari che vedrebbe solo un vero sfaccendato, un vagabondo. Il cappello dalla tesa larga di quella donna, la faccia abbronzata di questo mendicante di cui non mi ero mai accorto, pur passandogli ogni giorno davanti. I barbieri che leggevano il giornale nei loro negozi, i loro apprendisti, la ragazza nella pubblicità di conserve, il muro laterale del palazzo di fronte, interno dell'orologio a forma di salvadanaio di piazza Taksini. Come lo puoi vedere solo se salti la scuola e vieni qui a quest'ora mentre lo aggiustano. Il negozio deserto del venditore di hamburger, i fabbri, i rigattieri, i riparatori di poltrone, i droghieri, le strade secondarie di Begiovio, i latelici, i negozi dove si vendevano strumenti musicali, libri vecchi, timbri o macchine da scrivere. E tutto mi sembrava così vero, bello e interessante da risultarmi strano il fatto di non essermene mai accorto in altre occasioni, ad esempio quando andavo in giro da bambino con mia madre o con i miei amici. Avevo sia dei momenti di euforia, quando in un angolo con la gagassosa in mano osservavo i bambini che giocavano a pallone per la strada o quando camminavo giù da una discesa che non conoscevo affatto, sia degli attimi di tristezza e anche di senso di colpa, quando invece guardavo l'orologio e pensavo alla scuola. Perché vi ho letto queste frasi? Perché è condensato in maniera abbastanza precisa qual è il sentimento che si prova quando si guarda la vita quotidiana che scorre davanti ai nostri occhi. Lo scopre un bambino marinando la scuola, in questo caso l'autore del libro, tra l'altro il libro è corredato di bellissime fotografie di Ara Guller fra gli altri e quindi per sottolineare il fatto che fare fotografia di strada presuppone è la consapevolezza di farlo, cioè quello di essere consapevoli di essere degli osservatori privilegiati. Quindi la consapevolezza è l'elemento principale. Andare nell'archivio, tirare fuori vecchie fotografie per dire che si faceva fotografia di strada non serve a niente se non sapevi di farla. Le immagini che state vedendo sono di un lavoro specifico in cui le persone ci guardano negli occhi, mentre fai fotografie di strada può succedere anche questo. Quindi adesso vi faccio vedere questa cosa. Allora per questa serata noi come vi dicevo vediamo degli elementi per quanto riguarda la fotografia di strada. La fotografia di strada esiste da quando esiste la fotografia perché chi era interessato a ottenere quel tipo di risultato è sempre stato da togliere in un determinato luogo in quel tempo quella situazione che è davanti ai nostri occhi. Perché? Perché ci emoziona, perché ci interessa, perché vogliamo tramandarla, farla vedere agli altri. Quindi se vogliamo interessarci a questo genere è fondamentale leggere almeno questo libro perché è l'unico fondamentalmente che racchiude un po' la storia di quello che noi oggi viene considerato un genere fotografico. Il Bystander è un libro che è uscito nel 1994 scritto da Colin Westerbeck e Joel Meyerowitz e che è un famoso fotografo di strada e fa tutto un percorso storico di quelli che sono i precedenti, i precursori del genere fino ad arrivare alla definizione di quel cosiddetto genere. Perché per quanto ci riguarda, lo abbiamo detto più volte, per noi è più un modo di dividere la fotografia piuttosto che un genere fotografico perché poi alla fine uno fa un po' quello che gli pare. È proprio il fatto di non avere dei limiti, perché la differenza qual è fra la fotografia di strada e gli altri generi. Il fatto che esci e non sai quello che troverai. È come andare un po' a pescare che puoi pescare a 20 pesci o neanche uno, però sei andato fuori per pescare. Quindi è un po' una ricerca libera, non hai niente, sei libero, togli quello che trovi. Nella definizione sarebbe cogliere attimi di vita quotidiana nel suo manifestarsi, possibilmente senza che il fotografo si accorga della tua presenza perché siano effettivamente dei momenti reali. Il fotografo è un po' come gli angeli nel comodo film di Will Genders, in senso di pensieri della gente. Tu sei un osservatore privilegiato per dirsi a cogliere dei momenti di vita quotidiana. Io ho letto appunto una parte, una piccola estrapolazione di un romanzo perché credo che più che dai libri di fotografia sono abbastanza contrario ai manuali di street photography, sia facile trovare dei riferimenti nei romanzi, nei film, nel teatro, nella musica, piuttosto che in questione di carattere tecnico. Però la storia della fotografia è fondamentale perché riusciamo a capire l'importanza delle immagini nella storia dell'uomo, dell'arte, una storia della fotografia e successivamente un qualcosa che si dedica a questo genere fotografico. Sono usciti tantissimi libri nell'ultimo periodo. Il fondamentale rimane questo che come vedete è stato editato in tre edizioni, 1994 e 2001. Erano diventati rarissimi e costosissimi questi testi. È stato ristampato recentemente. Chi si interessa di questo genere fotografico se lo procuri perché poi quando escono di catalogo diventano automaticamente ricercati e quindi costosi. Questa è un'altra pubblicazione che si trova sempre, che è più orientata verso gli autori diciamo moderni. È già abbastanza adattata ma è ancora un testo particolarmente valido. Poi ce ne sono tantissimi altri. Ripeto che piuttosto che riferirmi per imparare, per capire qual è l'anima della street photography, piuttosto che andare verso manuali tecnici, quello più famoso è ad esempio quello di David Gibson che è un buon manuale, ma preferisco leggere libri di questo tipo da Lo Sguardo Vagabondo di Giampaolo Nuvolati. Vi leggo proprio due righe. Perché l'esperienza del flanere, il flanere è la figura tipica del perdigiorno che già è una figura ottocentesca letteraria, che è questa figura che non è né turista né persona che lavora nella città, ma può essere l'uno e l'altro, ma gira la città a caccia appunto di sensazioni. Perché l'esperienza del flanere sia completa, occorre che egli durante e dopo la sua esperienza raccolga materiali finalizzati all'elaborazione di un prodotto. L'ozio, in questo senso, è necessario in quanto solo il rallentamento dei tempi consente un'osservazione più profonda e una riflessione più acuta. L'ozio risponde a un desiderio, rallentare la fugacità dell'esperienza e diventa altresì un'arte, l'arte dell'attesa. Seppur necessario, tuttavia, l'ozio non è sufficiente. Ancora una volta, l'immagine del flanere richiama due poli opposti. L'abbandono all'istinto del muoversi in città, ma anche la capacità di registrare con precisione le emozioni provate. L'ozio, ma anche la concentrazione, la spensieratezza, ma anche l'ansia della ricerca. Ingredienti che saranno presenti in dosi diverse nell'alchimia personale del flanere. Un altro passo dice che il significato attribuito a un luogo, da popolazioni marginali, ad esempio gli immigrati o gli anziani, può essere colto da uno sguardo capace di scavare nella memoria storica, di rifiutare l'omologazione imposta dalla globalizzazione o dalla cultura dominante. I territori nascosti sotto tale crosta uniformatrice sono leggibili attraverso atteggiamenti di contemplazione e di empatia, di cui il flanere è un virtuoso, a differenza del turista come dello scienziato. Cioè, qui il fotografo, il fotografo in questo caso perché questo libro si riferisce a una figura letteraria, però è come leggere un manuale di fotografia. E qui il fotografo di strada è quel fotografo che coglie qualcosa di particolare, lui va per la strada e prende appunti, non ha in mente di fotografare una cosa precisa, ma va per la strada e quello che lo affascina, lo colpisce, lui scatta. Questo non esclude che quel fotografo stia andando a lavorare, è un fotografo e fa dell'altro. Il caso emblematico, non so, di Elio Tervit che per tanti anni, mentre girava per lavoro, fotografava di tutto o di più per la strada, soprattutto i cani, tutti conoscono le sue immagini. Quando noi facciamo i nostri corsi di fotografia, di fotografie di strada, dedichiamo molto tempo al senso che hanno avuto le immagini nel momento in cui sono state fatte. Questo è importante. Scrivere oggi che Cartier-Bresson è stato il re dei fotografi di strada non ha alcun senso, non è stato un fotografo di strada. Noi da lavoro di Cartier-Bresson possiamo trarre giovamento, capire, ma lui non era un fotografo di strada. Non è corretto da un punto di vista storico riscrivere la storia della fotografia a nostro piacimento. Charles Negret nel 1852, faccio solo degli esempi molto veloci per farvi capire l'importanza della storia della fotografia, che credo sia importante per qualsiasi fotografo, non solo per chi si interessa di fotografia di strada. Ha la formazione di carattere visuale come pittore, lui nasce come pittore. Si dedica alla fotografia nel 1852 quando i mezzi tecnici della fotografia, gli otturatori, non possono permettere un'immagine di questo tipo. Il fatto che lui sia riuscita ad ottenerla, quindi sicuramente mettendo in posa queste persone reali che stanno uscendo dalla miera dopo il lavoro, significa che l'autore arriva prima di quello che i mezzi tecnici permettono di intravedere il potere della fotografia nella sua istantaneità. Qui potremmo parlarne per ora, però, ovviamente andiamo avanti. La prima vera immagine istantanea di cui io abbia traccia, che ha tutto il sapore, se volete, della fotografia di strada, è questa immagine di Charles Piazzi-Smith, un astronomo, tra l'altro in stretta relazione e di rapporto con Sir John Herschel, che è colui che ha coniato il termine fotografia, amico di Harry Fox Talbot, inventore del processo negativo-positivo, quindi tutta una serie di intrallazzi molto interessanti da sondare. È un'immagine fatta a Novgorod, in Russia, mentre è in viaggio e riesce a ottenere questo tipo di immagine perché usa un apparecchio stereografico con dei negativi molto piccoli, che poi lui, tra l'altro, è uno dei primi che usa l'ingrandimento fotografico, può partire da un piccolo negativo. Riesce a ottenere questo tipo di immagine che dovete fare attenzione, per l'epoca rappresenta un'immagine sbagliata, perché il retaggio dell'iconografia dell'epoca, che deriva dal mondo dell'arte, dalla pittura, non può che trovare sbagliata questa immagine. Questo tipo di immagini fotografiche sono delle novità assolute e fino a tempi non molto distanti da noi sono considerati dalla gente in generale degli errori, non vengono capite per la loro modernità. Chi riuscirà a capire prima degli altri l'importanza di immagini di questo tipo, una novità assoluta per l'epoca, sono persone che si dedicano al mondo delle immagini, e cioè i pittori, per esempio. Poi dall'Oriente arrivano la moda delle stampe giapponesi, un modo di intendere per esempio il paesaggio in maniera inconsueta, non si vedevano in Occidente paesaggi in verticale e non si vedevano nemmeno dei tagli così arditi di porzioni di corpi tagliati. I primi a usare in maniera un'attività di corpi tagliati in maniera inconsueta, non si vedevano in maniera inconsueta che si vedevano in maniera inconsueta, non si vedevano in maniera inconsueta, non si vedevano un attimo. Prova tu perché altrimenti io qui vado in tilt. ne sono chiusi quasi tutti. Finora ho sentito bene. Anch'io, perfettamente. Mi senti bene adesso o meglio? Sì, adesso senti bene, non c'è più rumore di fondo. Bene. Allora, poi continuando con la storia della fotografia in relazione a questo tipo di immagini, il lavoro di John Thompson negli anni 70 dell'Ottocento è fondamentale. Lui è il famoso autore del libro Street Life in London, che è un po' la fase primordiale sia della fotografia di strada che della fotografia sociale. È bellissimo leggere di queste cose perché se da un lato l'autore parte e va nell'Oriente, nelle colonie inglesi, per documentare come vivevano sulla strada le persone e portava a casa queste immagini non con intenti sociologici, come diremo oggi, perché non esistevano quegli intenti all'epoca, ma con l'intento di far vedere come vivevano a livello direi quasi folcloristico, di far stupire le persone. Questo autore ha veramente una trovata spettacolare per l'epoca, nel senso di dire ma perché non faccio la stessa cosa che ho fatto in Oriente anche per le strade della mia città, perché i ricchi vivono in carrozza e non hanno problemi, mentre per le strade ci sono i poveracci che vanno a raccattare il cibo dove lo trovano. Quindi a livello sociale questa è veramente una rivoluzione, perché per la prima volta si comincia a vedere la società come qualcosa che si può migliorare attraverso l'azione condivisa degli uomini e a fare in modo di far capire alle persone che se sono nate povere non è perché l'ha voluto un'entità suprema dal cielo, ma ci sono anche altri ragioni. Questa è una cosa veramente molto importante. Poi saltando proprio molto più in là quando nascono le macchine portatili, primi anni del Novecento, la famosa Leica, formato 35 mm, le macchine, c'è chi comincia a dire che la fotografia è morta, se voi leggete nella storia della fotografia cosa dicevano all'epoca, sembra di leggere quello che è successo quando è nata la fotografia digitale e più tardi i telefonini che sostituiscono i mezzi precedenti. Sembra che il piccolo formato sia la morte della fotografia. Invece è una rinascita praticamente perché si riescono a ottenere delle immagini che prima non si potevano assolutamente ottenere. La portabilità, la velocità, la luminosità dell'ottica e poi con il tempo il miglioramento delle pellicole fotografiche faranno il resto. Direi che il re, il primo a riuscire a fare delle cose straordinarie è André Cartes, lo stesso Cartier-Bresson lo dice, che se pensate di aver fatto qualcosa di originale o di nuovo, Cartes lo aveva fatto prima di voi. Noi rispetto a questo genere di fotografie come europei siamo più abituati al cosiddetto filone magari della fotografia umanista francese da Cartier-Bresson, Duano, Isis, Bubat e via discorrendo. Siamo molto meno preparati a capire la fondamentale importanza che ha avuto Walker Evans in America perché è un territorio, tra virgolette, nuovo, non c'è storia in America. Quindi quello che documentano e lo hanno poco all'epoca e Walker Evans ha una visione diretta, semplice, assolutamente neutra e poco interessante perché l'America di quel tempo ha poca storia, c'è poco da fotografare. E quindi siamo in quel frangente in cui Stiglitz, il capo dei secessionisti che ha portato il pittorialismo dalla fotografia che simmiotava, tra virgolette, la pittura alla fotografia diretta con l'immagine simbolo di Paul Strand, la ceca, la nascita della fotografia diretta che fa diventare matura la fotografia e arriva Walker Evans. È una fotografia libera, fotografia per quello che è nel suo tempo, in quel luogo. Nel 1958 Robert Frank, un fotografo svizzero che si trasferisce in America dopo la Seconda Guerra Mondiale e che frequenta Walker Evans, Edward Steichen, tutti i grandi e che ha un promettente futuro perché si è inserito perfettamente nel circuito fotografico americano, pubblica il libro The Americans. The Americans è una fase di rottura totale per la storia della fotografia perché se la fotografia di Walker Evans era neutra, questa invece è estremamente personale. È un, direi quasi un grido di dolore verso la società moderna. È un'accusa quasi al mondo capitalistico e per la prima volta le persone, mentre prima il pubblico in generale dava per scontato che un qualsiasi fotografo in un determinato luogo avrebbe creato quel tipo di fotografia, da questo momento in poi anche il pubblico si rende conto che il fotografo ha un ruolo personale estremamente importante. È un libro che va capito nel suo contesto, cioè bisogna vedere il libro e a questo proposito vi esorto a curare una vostra piccola biblioteca verso qualsiasi tipo di fotografia voi vi orientiate e avere una serie di libri di fotografia che siano il vostro, diciamo, piccolo tesoro da coltivare perché un libro fotografico non si esaurisce vedendolo una volta perché quando voi crescete, come diciamo cultura legata al mondo delle immagini, voi ogni volta che lo prenderete in mano, i libri vanno presi in mano più volte, vi troverete sempre nuovi elementi su cui prestare attenzione se sono dei libri validi, per cui delle storie della fotografia e poi via via mano a mano che trovate degli autori che vi interessano andare a studiarli questi libri è fondamentale, trovate nutrimento e in via del tutto inconsapevole vi formate. Molto più importante vedere tanti libri, tante mostre possibilmente, il valore degli originali, delle stampe, perché la fotografia per quanto mi riguarda è ancora un pezzo di carta fisico o anche su vetro, quello che volete, ma è un'immagine fissa. Il web può essere un approccio molto interessante e valido per trovare, per capire, per iniziare, ma non può essere il fine della fotografia. Da Robert Franckin poi si apre un mondo ed è un po' la fine della fotografia e il massimo dell'espressione della fotografia degli anni 50 e di tutto quel secolo, perché successivamente, dopo che, per esempio, l'epoca della diffusione delle notizie attraverso le immagini, Life, la rivista Life, la punta di diamante che era diffusa in milioni di copie in tutto il mondo, con l'arrivo della televisione dovrà via via, fino agli anni 70 del 900, cedere il passo. Quindi la potenza della fotografia per trasmettere notizie troverà via via sempre meno importanza. Io credo che questo tipo di fotografia, intesa in questo modo, abbia ancora delle grandi potenzialità e debba essere usata ancora in questo modo per raccontare il nostro tempo e quello che ci interessa, quello che ci fa pensare e che non debba essere abbandonata, perché molta critica e molte questioni legate alla fotografia dal giorno d'oggi tendono a sottovalutare questa cosa che la fotografia fotografa la realtà senza pensare di doverla modificare o creare dei falsi. Ormai non crediamo più alla fotografia e questo non è un bene. Ripeto quello che hanno detto già altri, che semmai sono i fotografi ad essere disonesti piuttosto che la fotografia. Da quel momento in poi il fatto di sapere, anche a livello di pubblico, non solo dei fotografi che già lo sapevano, che la fotografia può essere un modo di esprimere se stessi, dà all'avvio a una serie infinita di autori interessanti di cui potremmo parlare per giorni. Un esempio è quello di Sergio Larrain, che attraverso delle immagini assolutamente poetiche che si possono anche decontestualizzare dal luogo e il tempo in cui sono state fatte. Sono delle immagini che raccontano, che ti danno delle sensazioni ed è quello che cerca il fotografo di Stena. Ecco, la nostra esperienza nasce dal fatto come gruppo di fotografi e credo sia interessante il nostro percorso per quanto riguarda il fatto di badare un po' meno a quello che è il fatto di essere un autore di fotografie, perché credo che l'epoca dei grandi fotografi sia sostanzialmente finita, semplicemente perché non si può essere originali all'infinito, ma si può usare questo linguaggio per costruire qualcosa insieme. Negli anni 90, quando mi appassiono da giovane di fotografia, trovo delle realtà che sono quelle dei professionisti che siccome guadagnano tanti soldi non hanno tempo per la cultura e trovo quella dei fotoclub che all'epoca si dedicano quasi esclusivamente alla diapositiva a colori, la fusi velvia, tanto per fare dei nomi dell'epoca, i concorsi fotografici e molto poco quello di una questione legata alla cultura della fotografia. E mentre sto studiando autori come Volker Ivas, Robert Frank, eccetera, vedo la mostra di Giovanni Umicini quotidiana. Giovanni Umicini, mancato purtroppo recentemente, era un autore assolutamente fuori dagli schemi e che mi ricordava molto questi autori. Un percorso personale, un vero outsider. delle immagini che all'epoca erano non dico incomprensibili, ma quasi tipo questa. Comincio a dedicarmi con passione alla camera oscura, alla stampa e a conoscere fotografi e a chiedere loro se fossero interessati a un programma di questo tipo. Semplicemente documentare quello che ci interessava. Questa è una mia fotografia del 96. Questa è una del 98 di Mauro Minotto di Padova. Il credito di Fasolo del 99. Poi da una prima parte, diciamo, noi abbiamo cominciato subito a dedicarci a quello che è la nostra passione per la stampa, i libri, riuscire a fare dei libri, delle esposizioni che abbiamo fatto. il fatto di lavorare insieme sia a progetti di carattere collettivo che non erano mai divisi per autore, ma che pensavano a un'idea, come fosse un libro, come fosse uno spartito musicale, di mettere insieme immagini che abbiano un senso e non pensare all'autore, Tizio Caio e mettere ognuno la sua casella. Questo è un po' quello che credo sia importante del nostro percorso. e anche quando il progetto è approvato, diciamo, su cui lavorare, perché sono 25 anni e non ci siamo mai fermati, abbiamo sempre dei progetti, tanti nel cassetto, un po' che si concretizzano e anche quando lavoriamo a quelli personali di un singolo fotografo è tutto il gruppo che lavora a quel singolo progetto. A un certo punto, quando abbiamo cominciato a fare le nostre mostre e le nostre prime pubblicazioni, arrivano dall'esterno anche le richieste di fare dei corsi. Noi siamo stati probabilmente, come siamo stati il primo gruppo, siamo stati anche i primi a fare delle serate, dei corsi specifici sulla fotografia di strada dal 2006, mi pare. E non è stata una cosa che ci siamo inventati noi, è stata una richiesta da parte di chi vedeva le nostre esposizioni a ricevere degli elementi su questo tipo di fotografia. All'inizio noi un po' non ci credevamo e invece ci siamo accorti che è stata un po' anche la nostra salvezza perché nel tempo abbiamo conosciuto nuove persone molto motivate che sono entrate nel gruppo mentre altri, magari perché cercavano altre strade o hanno avuto altri tipi di problemi hanno lasciato il gruppo. Noi abbiamo dato spazio più o meno a circa 20 soci nel gruppo Mignon e ci siamo occupati anche del lavoro di altri fotografi. Abbiamo promosso il lavoro di altri fotografi o di altre anche serate, dei piccoli festival, abbiamo fatto parecchie cose in questi anni. Fatima Abadi è entrata nel 2014 e ha una storia particolare, la sua nelle news del nostro gruppo se andate a vedere, recentemente c'è una sua intervista in inglese ma penso si capisca piuttosto bene della sua storia e se andate a vederla credo sia molto interessante. Davide Scappin entra nel 2012 e siamo riusciti a, diciamo, ad Accum, era come è capitato per tanti altri, una persona che ha fatto un corso da noi che poi ci chiede consigli, che impara a stampare, e così gli abbiamo lanciato un po' una specie di amo, abbiamo detto ti piacerebbe fare un po' la storia del gruppo in mano e tutto quello che abbiamo fatto. Lui fatalmente ha detto di sì, così una sera si è trovato con la macchina completamente piena di libri, riviste e cose di questo tipo e ha dovuto stilare un po' quello che poi è diventato il libro Venti Mignon che è un mattone con 300 fotografie e una sessantina di pagine di testo che ha scritto lui e quindi questo lavoro gli è servito per veramente prendere in mano un po' tutta la situazione di quello che è stata la storia del gruppo. Più tardi è entrato anche Giovanni Garbo che è entrato, noi lo abbiamo aiutato a fare un lavoro di documentazione sul suo paese che qui non faccio vedere ma avete visto anche delle immagini prima sue mentre per quello che riguarda la fotografia a colori che non è mai stata presente nel nostro nel nostro modo di proporci e che era diventata un'idea di handicap se volete quando facevamo i nostri corsi di fotografia perché evidentemente le nuove l'aeree usano il mezzo digitale e si aspettano anche qualcosa che sia in riferimento a quello che fanno loro per cui noi abbiamo contattato il nostro amico Leonio Berto che purtroppo è mancato due anni fa e nel 2010 2012 circa lo abbiamo contattato perché era un autore che avevamo già promosso con una mostra avevamo promosso una sua mostra alla Corte Benedettina di Correzola una bella mostra su Venezia e gli abbiamo chiesto delle fotografie da far vedere ai nostri corsi e devo dire che abbiamo messo insieme una multivisione che ha avuto un successo straordinario da cui è nato un rapporto e poi col tempo è entrato nel gruppo e concludo con questa immagine sempre di Leonio anche per ricordarlo che ci fa sempre molto piacere e mi fermo qui perché poi al limite continuiamo con questo è un po' il nostro percorso in maniera proprio molto veloce cerco di così spero di avervi dato degli elementi su cui tornare e eventualmente poi ne parliamo insomma se avete delle domande specifiche io interrompo la condivisione e te la prendi tu Umberto sì va bene allora buonasera e grazie anche da parte mia per l'invito che ci avete rivolto e condivido subito lo schermo così e metto in presentazione a pieno schermo ok allora come come diceva anche Gian Paolo parlare della fotografia di strada della street photography come si dice come si chiama oggi e in mezz'ora 40 minuti insomma è riduttivo si possono solo dare appunto dei punti di riferimento per poi dopo continuare nel proprio a svilupparla e a capire questo tipo di fotografia c'è anche nelle parole di Gian Paolo anche nelle parole di tutti quelli che fanno che la praticano con la fotografia di strada ognuno di noi tiene a una certa definizione a dare un significato questo perché perché è molto è molto labile il confine con altri generi cioè un'istantanea può anche essere istantanea in un reportage in un in un racconto quindi spessissimo io mi trovo mi trovo a sentire la domanda ma questa è fotografia di strada ma questa non è fotografia di strada quindi questa necessità di definirla di catalogare l'immagine che si fa che secondo me dovrebbe dovrebbe essere un po' non il problema principale cioè c'è chi associa questo tipo di fotografia a una fotografia umanista sulla base dei lavori dei importanti esponenti della fotografia alcuni li ha fatti già vedere Giampaolo altri pensano che si debba fare documentazione una documentazione che faccia una uno uno screenshot della società contemporanea per altri invece una ricerca di attimi significativi una ricerca di attimi che possono raccontare attraverso appunto lo scatto a piccole storie colte nel quotidiano e molti e forse quasi tutti pensano che l'istantanea anche sia una forma d'arte vera e propria lo penso anch'io non a volte un'istantanea può a fare aprire finestre e visioni alle persone che la guardano può far capire certe cose chiaramente la fotografia non mostra sempre la realtà ma spessissimo mostra anche il pensiero di chi scatta oppure attraverso una fotografia sbagliata addirittura può può dare determinate sensazioni quindi ecco è molto difficile definire definire il termine non so va avanti ecco faccio vedere un po' di fotografie io nel corso degli anni ho vissuto in prima persona un po' la crescita di questo genere soprattutto moderno in questa fase moderna attuale dove il digitale il web ha dato un'impronta molto molto forte all'espansione di questo tipo di fotografie ci sono stati tanti autori che si sono avvicinati tanti fotografi che si sono avvicinate al genere alcuni sono diventati molto bravi sono diventati autori altri altri hanno cambiato strada in tutti i sensi ho visto ho visto gli approcci utilizzati ho visto in questi ultimi anni soprattutto una ricerca della progettualità e molti fotografi che hanno capito attraverso la fotografia di strada anche anche se stessi cambiando approfondendo in una certa maniera l'approccio personale poi un'altra cosa importante che è avvenuta in questi ultimi anni è stata il fatto che appunto tante persone si sono avvicinate della stritta si sono creati collettivi si sono creati gruppi si sono creati un movimento vero e proprio un movimento vero e proprio che ha tentato di accumulare questo modo di fotografare con delle regole quindi di ancorare questa fotografia delle regole proprio per dire la stritta è questa e si fa così regole che hanno hanno anche portato una serie di dubbi e gli stessi fotografi che praticano la fotografia di strada quindi spessissimo mi trovo a parlare con delle persone che fanno fotografie di strada e loro stessi dicono ma se è meglio fermo una persona in strada e gli faccio un ritratto quella la considero stritta o non stritta quindi si ritorna di nuovo a questa codifica a questa necessità di dare una regola ad un genere che secondo me non ne ha dipende tantissimo dalla persona dall'autore da quello che sente e quello che vuole fare della propria fotografia raggiungere questa consapevolezza per me è fondamentale per poter poi dopo dare un senso e dare anche una qualità al lavoro che si fa per giunta diciamo che l'ambiente un po' secondo me dalle esperienze che ho vissuto non vede di buon occhio questo tipo di fotografia lo considera proprio perché molto probabilmente alla portata di tutti con dei limiti e quindi per poter essere riconosciuto è necessario non solo fare lavori di qualità e lavori profondi ma anche il tempo che ti aiuta poi ad avere uno spessore a livello personale ci sono stati e ci sono ancora tuttora una serie di entità di realtà che possono essere i contest che possono essere la spinta dei collettivi o dei gruppi che si dedicano a questo tipo di fotografia che hanno portato alla ricerca un'assessiva secondo me un'assessiva un po' di cerca della improbabile coincidenza di quell'istante difficile da cogliere anche perché probabilmente come è la situazione oggi per essere notato è necessario trovare delle fotografie e fare delle cose abbastanza difficili e quindi per essere riconosciuto e per essere notato appunto i grandi autori del passato e di cui anche Gianpaolo ha fatto riferimento sono e restano per i fotografi di strada contemporanea dei punti di riferimento importantissimi gli stessi fotografi della Magnum sono dei punti di riferimento perché nel loro lavoro di reportage che facevano giornalmente molti moltissimi di loro avevano un istinto appunto verso l'umanità e verso il cogliere il quotidiano in una certa maniera e hanno realizzato delle grandissime fotografie di strada anche fuori dal lavoro che facevano normalmente e quindi quei fotografi sono punti di riferimento lo sono tuttora ecco io faccio vedere alcuni alcuni punti contemporanei punti di riferimento contemporane della street photography in public è stato il primo collettivo internazionale probabilmente che è nato dopo quello del gruppo Mignone se non sbaglio vero Gianpaolo devo attivare l'audio noi siamo dal 95 infatti 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 però utilizzando il web utilizzando appunto il sistema internet si è fatto riconoscere con molta più hanno saputo intercettare hanno saputo intercettare molto bene e anche qui chi si approccia alla foto di strada oggi ne è sicuramente questo collettivo è sicuramente un riferimento che poi si è sciolto poi si è diattivato di nuovo con altri membri si è sciolto in un un public un altro un altro c'è stata una scissione interna insomma tra i membri per una difformità di vedute quindi i collettivi sono stati inizialmente nati per mostrare probabilmente i più bravi si sono uniti e hanno realizzato dei collettivi ma poi ultimamente c'è stato probabilmente un calo di questa cosa perché il collettivo e Giampaolo sicuramente mi darà adito a questo il collettivo funziona nel momento in cui tutti insieme i membri riescono a realizzare qualche cosa riescono a portare avanti un discorso comune dove all'interno ci si arricchisce come si dice influenzi un po' anche però tutti insieme si cresce e questo è il senso maggiore secondo me di un collettivo perché non ha senso avere un collettivo solo di nomi completamente autonomi che non si interfaccia tra di loro e di collettivi così purtroppo ne ho visti tantissimi un'altra realtà importante è stata Flick un portale dedicato alla fotografia e ci erano dei gruppi tra cui quello più ricco di persone più di 85.000 utenti l'hardcore street photography che è nato nel 2005 ha dato una una impronta significativa a tutto il movimento street internazionale anche il fenomeno Vivian Mayer scoperto da John Maluf è stato è stato insomma sviluppato è presentato alla comunità internazionale su questo portale queste sono delle immagini di John Maluf della scatola negativi di Vivian Mayer e lui sviluppava e man mano li metteva in questo portale così è nata un po' la leggenda della Tata fotografa un altro punto di riferimento che è stato agli inizi di questa fotografia di Stata Contemporanea è stato Eric Kim oggi si dedica esclusivamente a corsi di fotografia ma ha realizzato in pratica una una biblioteca web un su sugli autori sugli approcci e ha parlato e ha sviluppato ha dato tante indicazioni a chi si avvicinava alla fotografia di strada i festival di fotografia hanno iniziato a moltiplicarsi quasi oramai ogni nazione mondiale ha un suo festival dedicato alla fotografia di strada questo è un altro fenomeno un'altra cosa che fa pensare quindi ci sono milioni di fotografi che la praticano quindi questo rende molto molto difficile determinate cose non solo emergere ma rende anche un po' svilisce un po' svilisce dei momenti che sono significativi che sembrano unici ma poi alla fine ti rendi conto che facendo facendoli cioè trovandoli da tanti fotografi alla fine il momento difficile diventa copiabile dipende da come dire da replicabile non più unico ma poi vedremo questo approfondiremo questa situazione la FIAF ha realizzato attraverso il dipartimento web con Attilio Lauria una piccola breve storia della street fotografia italiana che è interessante che la potete la potete vedere sul link che è sotto per una storia della street fotografia italiana praticamente sono dei piccoli accenni a come soprattutto ultimamente si è sviluppata questo genere in Italia tra cui poi i Minion sono stati i primi a livello di collettivo ad affrontare il genere questi sono i loghi dei vari festival che vi dicevo prima ci sono tantissimi in tutto il mondo ecco la street photography prospera nelle situazioni inverosimili fuori luogo mutevoli celebra l'ambiguità alludendo a realtà parallela che solo di rato riusciamo a intercettare solo di rato riusciamo a intercettare e queste sono alcune di queste fotografie sono poche fotografie gli autori le ho scritte sotto le potete leggere sotto e sono fotografie che hanno vinto dei festival dei contest sono stati evidenziati in qualche modo dalla comunità internazionale di street e in quasi in tutte in quasi in tutte c'è questo effetto wow che è ricercato tantissimo dal dei fotografi oggi questa foto è incredibile perché sembra costruita probabilmente non lo so però ha dell'incredibile quindi è un momento veramente difficile o almeno sembra difficile ripeterlo come questo queste sono una serie di immagini che faccio scorrere velocemente per dare un esempio di quello che oggi è nei festival e nei contest di internazionali di street photography ho dato a quest'altra immagine di Paul Buscato ora una riflessione che è una riflessione che ho fatto io in prima persona e mi sono deso conto poi la mia fotografia un po' è cambiata dopo appunto aver riflettuto su queste cose c'è un portale creato da Giulia Udrova che si chiama Street Repeat lo potete vedere su Instagram dove ve li faccio vedere velocemente perché sono tantissime ma sono tutte interessanti da vedere vi renderete conto che immagini veramente forti veramente particolari difficilissimi da cogliere sono invece continuamente ripetute appunto dal grande numero di fotografi che ci sono e che fanno questo tipo di fotografia sono fotografi ogni fotografia che vedete sono di fotografi differenti fatte da fotografi differenti e fatte in luoghi diversi e in tempi diversi gli uccellini che escono dalla tasca gli uccellini che entrano in una borsa o escono da una borsa oppure gli occhi che si aprono e fanno uscire delle finestre delle persone ho le mani messe in questa maniera quella a sinistra è una foto di Vivian Mayer quindi da Vivian Mayer agli autori contemporanei io non ho avuto modo di poter mettere i nomi dei vari autori però non è un solo autore sono tre autori per ogni azione che vedete guardate la coda del cane è al centro la figura umana sono tre immagini di tre autori ripetuti in tempi differenti e loro sono magari inconsapevoli di aver colto delle fotografie che hanno colto le stesse altre persone e questa situazione alla fine secondo me può essere anche un punto diciamo critico della fotografia di strada che cos'è è la ricerca è la ricerca di questi attimi fotografare in strada è per dire che cosa come sono bravo a cogliere questi attimi però questo ti sconfesso un po' certe cose perché fa riflettere insomma fa pensare io ecco quando ho visto questa raccolta di scatti sono rimasto abbastanza meravigliato e allo stesso tempo ho fatto ma sono improbabili situazioni ed è ed è giusto cercare solo questo in strada ci siamo dimenticati un po' dell'umanità ci siamo dimenticati dell'incontro di quello che avviene di quello che può avvenire e quindi ecco sono passato e vi spiego un po' un attimo il mio il mio percorso velocissimamente e dico come tanti sono attratto dalla bellezza dell'attimo dalla sua difficoltà nel coglierlo oggi si dice streetwise cioè essere un fotografo capace di calarsela con scartrezzi in strada questo credo che sia uno degli ecco elementi molto importanti cioè quello di sapere stare in strada e l'attimo l'attimo cogliere velocemente un attimo è sicuramente una cosa che mi piace fare tantissimo come camminare in strada attendendo spesso in un luogo e immaginando che possa accadere qualche cosa questa è una tipica situazione una canalina rotta l'acqua che fuoriesce in un determinato punto lì si fermano tutti i bambini i genitori che aspettano il loro passaggio con l'ombrello sotto la canalina tu stai lì fotografi e poi arriva il momento il momento decisivo un momento decisivo che hai immaginato prima oppure hai aspettato oppure pensavi che potesse accadere qualche cosa e non potevo immaginare quando ho scattato questa foto però stavo lì avete visto gli scatti di prima stavo lì che aspettavo può succedere qualche cosa è successa eccola qui in strada mi diverto molto è l'ironia che fa parte poi del mio carattere provo a cercarle in strada sotto forma di immagini e quindi quando vedo qualche cosa che mi fa sorridere io scatto immediatamente e metto in un cassetto come queste due immagini qui provo a reinterpretare la realtà trasfigurarla in alto quando posso quindi vedere o immaginare oppure appunto trasfigurare la realtà in qualche cosa ecco questa madonna che appare in un cielo nuvoloso uno sfondo nello sfondo mi piace cercare nelle piccole cose la poesia che mi fa amare l'atto del fotografare la fotografia mi permette di entrare in un mondo tutto mio e ci sono delle immagini o dei tempi sospesi che cerco che cerco assolutamente con la macchina fotografica come anche le forme giuste che possono evidenziare i soggetti scelti prestano e dice bisognerebbe pensare subito prima e subito dopo mai mentre si fa una foto e molto probabilmente ha ragione tu immagini certe cose aspetti e poi scatti scatti e poi dopo ti rendi conto di quello che hai fatto non c'è solo la strada nella mia fotografia mi piace lasciare tracce di me e di altri raccontando la mia vita la famiglia e quindi c'è la persona c'è l'uomo dietro la fotografia sempre poi c'è una una verità in questo tipo di fotografia che consiste nel prendere qualcosa dalle persone senza dare loro nulla in cambio alla fine nell'immediato almeno quindi è molto importante avere una grande responsabilità nei confronti della gente che si fotografa e ogni fotografo penso che debba comprendere bene questa cosa in fondo in archivio mi ritrovo persone volti famiglie come in questo caso in questo gente con cui per un attimo ho parlato oppure ho chiesto di fotografare oppure a volte ci siamo andati anche a prendere un caffè insieme e nel tempo sono rimasti con me nel mio archivio quindi quasi come quasi come la mia famiglia insomma ed è difficile ecco esprimere questi concetti ma io sento il dovere di restituire ecco un qualche cosa a queste persone e lo faccio attraverso una penso una dignità di sentimenti nel mostrare queste immagini e i loro volti che per me sono importanti io ho finito qui il mio intervento se ci sono domande o altre considerazioni Alberto fai da moderatore o come volete volentieri c'è qualcuno che ha domande intanto vorrei iniziare con una io molto pratica volevo chiedere a Giampaolo come riuscite a pubblicare così tanti volumi meccanismo vorrei fare il cattivo ma non so se ci riesco come mai voi ne avete fatti libri ne stiamo facendo uno ora ma non è una cosa facile e perché perché non ne fatti di racconto a fondi siamo ancora in in alto mare no siamo a metà della cifra che diciamo che volevamo fare i libri e li abbiamo fatti nel senso ora con beh sono situazioni sono passati 25 anni abbiamo fatto tante cose per cui bisognerebbe vedere il periodo perché come quando però si comincia perché vuoi lasciare traccia di quello che fai anche perché il nostro è un percorso particolare direi dopo se c'è tempo magari visto che c'è anche Umberto sarebbe bello far vedere quel libro che abbiamo fatto nel 2016 che si chiama Crossroad in cui noi abbiamo invitato dei fotografi che non fanno parte di Mignon insieme ai più giovani di Mignon a fare questo lavoro che era in parallelo con la mostra 20 Mignon al Candiani di Mestre in cui c'era questa mostra di autori che non fanno parte di Mignon e alcuni di Mignon in cui facciamo vedere un po' quello che è la street photography di oggi come la intendiamo noi fare i libri per un'associazione come la nostra ha il solo significato di lasciare una traccia soldi non ne fai ne spendi tanti i soldi i soldi li trovi con l'attività del gruppo facendo i corsi quello che noi guadagniamo con i corsi di fotografia vanno a finire sui libri perché vogliamo fare i libri poi fino a non tanto tempo fa c'era un bel ritorno nel senso che facevi le mostre e la gente aveva piacere di comprare il libro perché gli piaceva la mostra devo dire che nell'ultimo periodo questa cosa sta un po' cambiando perché adesso si fotografano le foto in mostra e si portano a casa il telefonino pieno di foto poi magari non le guardano neanche cioè sta cambiando il rapporto delle persone con l'immagine e questo mi preoccupa molto il libro però per chi ama i libri sa che è una cosa che è un messaggio in bottiglia è qualcosa che resta non si sa chi lo prenderà in mano è una cosa assolutamente pregiata voi sapete perché sicuramente frequentate le mostre fotografiche che vedere un originale di Ansel Adams non è come vedere la riproduzione su un libro anche fatto bene di Ansel Adams riuscire poi a stampare dei libri fatti bene stampati bene non è facile costa però si può fare è un impegno è un credo se vuoi noi amiamo i libri ne abbiamo siamo proprio ammalati di questa cosa e ci teniamo a farli bene ne abbiamo fatti 30 ne abbiamo fatti anche per altri è la nostra passione il libro fotografico ripeto quello che ho detto prima che un libro non si esaurisce quando l'hai guardato una volta i grandi libri li riguardi e scopri le fotografie che non avevi mai visto dici ma questa non c'era l'altra volta ma non è il libro che è cambiato il libro è sempre lo stesso sei tu che sei cambiato e vedi immagini nuove il rapporto con il libro è fondamentale per questo noi ci teniamo che non abbiamo fatto un libro per ogni mostra altrimenti sarebbero 100 ma siamo riusciti veramente a farne molti e speriamo di continuare a farne purché ci sia un ritorno anche di interesse da parte di chi frequenta le mostre fotografiche le serate anche nei fotoclub veramente mi auguro che gli appassionati di fotografia rimangano ancorati a questo importantissimo elemento di crescita perché capire la storia della fotografia gli autori e i messaggi che ti lanciano chiunque sia da chi fotografa un fiore a chi fotografa il disagio i problemi degli immigrati per dire quindi problemi incredibili alle cose più semplici della vita come la bellezza anche di un sorriso siano comunque fonte di accrescimento per la tua per la tua vita anche lì fare un libro se volete condivido lo schermo e visto che ne parlevamo dovrei averlo se riesco a farvi vedere prima l'avevo aperto niente non riesco ad andare un attimo prometto finché cerca dopo ci sono domande nella chat è il momento di Giampaolo Guasa vi faccio vedere dei libri del loro circolo che io ho questo è di Scampigna a sua immagine poi ho acquistato Venezia Venice di Leonio Berto che è sempre uno dei soci del club e poi questo che è un libro fondamentale del gruppo Mignon fatto per il loro ventennale che è Ventimanium quindi è un club fotografico che vuole chiaramente lasciare una traccia e lasciare un ricordo che non sia una cosa effimera che svanisce forse proprio in antitesi al fatto che la street photography è la fotografia di un secondo e loro vogliono mantenere il loro ricordo la loro immagine a lungo proprio perché penso che sia il gruppo fotografico che è riuscito a pubblicare il maggior numero di libri quindi tutti i miei complimenti grazie bibliofili ascolta visto che non trovo quella cartella che c'è ma ovviamente vi faccio vedere un contributo video di 4 minuti che è una una multivisione che hanno montato per noi sulla mostra che dovevamo fare ma a causa covid è stata rinviata sulla Giordania ve la faccio vedere poi magari parliamo del resto voi vedete il mio schermo per ora no allora esco devo tornare alla riunione non riesco più a Alberto passa le domande finché mi trovo ti leggo la prima considerando che spesso le foto riguardano persone e che la privacy è sempre più nominata e temuta di più la paura che mi ritrovo per strada è quella di entrare nella sfera personale delle persone perciò spesso mi sento scoraggiato e preoccupato ad uscire con la macchina in mano bisogna avere innanzitutto anche qui se uno studia la storia della fotografia legge guarda gli autori si rende conto che è molto più il vantaggio di affidarsi a questo tipo di pratica piuttosto che a quello che ne può derivare di negativo bisogna credere in quello che si fa di essere assolutamente dalla parte del giusto perché tu non vai per offendere come diceva prima anche Umberto tu lo fai per rendere omaggio all'uomo tu prima facevi riferimento alla nostra rapporto con Walter Rosenblum che è stato un grande fotografo americano presidente della Fotolig che per dirvi ha partecipato allo sbarco in Normandia quello di Robert Capa come fotografo dell'esercito americano ha visto la liberazione del campo di Dachau ha visto dal suo appartamento nel Queens ha visto gli aerei che si schiantavano nelle torri gemelle è mancato nel 2006 e ha visto i peggiori eventi del ventesimo secolo e nonostante tutto diceva se dai a una famiglia a un uomo la possibilità di vivere in pace e di far vivere bene i propri figli lui cercherà di dare il massimo aveva una visione positiva della vita e diceva che la fotografia gli aveva salvato la vita perché gli aveva dato modo di crescere di vivere in un mondo positivo e quindi anche se aveva visto il peggio del lato umano lui credeva che la fotografia fosse un mezzo per fare cose positive e per noi è stato un grande insegnamento quindi il rispetto per gli altri è la prima cosa se tu ti senti positivo trasmetti positività è uscito recentemente anche un manualetto di street photography di Joel Meyerowitz che parla proprio dell'atteggiamento che devi avere quando sei in strada e tu sei legittimato cioè sei nel tuo diritto c'è un articolo specifico della Costituzione italiana che dice che sei assolutamente in regola con gli altri quando puoi esprimerti attraverso l'uso della parola dello scritto e quindi anche facendo fotografie se non ledi qualche diritto altrui tu per strada in un luogo pubblico puoi fotografare quello che vuoi purché non dissimulando cioè non nascondendoti o non facendo cose che vanno contro la libertà degli altri ok il problema nasce quando tu pubblichi o esponi queste fotografie ma nel momento in cui tu scatti e non devi chiedere il permesso a nessuno in quel luogo di fare la fotografia tu stai tu stai esprimendo te stesso e sei nel diritto di farlo quindi non bisogna aver paura se hai paura devi crearti le tue motivazioni per farlo perché se hai dei dubbi è meglio che non lo fai non sei quanto riguarda la privacy quando pubblicati la privacy esiste quando o fai un ritratto ok e qui c'è l'articolo 10 del codice civile che devi avere il consenso della persona ritrattata per pubblicarlo o esporlo ma questo è un caso specifico di ritratto cioè devi prendere una sola persona e la sola faccia oppure devi essere in una proprietà privata tu se entri in casa di qualcuno devi chiedere il permesso anche in un bar anche in un luogo pubblico privato cioè che è di proprietà di una persona in teoria devi chiedere ma lì è tutto un discorso legato anche dalle aspettative che hanno le persone perché anche quello che diceva prima Umberto dei concorsi e quelle cose lì con il web si è amplificato tutto è diventato tutto facile e tutti vogliono tutto e subito la fotografia di strada non va vissuta per fare una fotografia e poi vincere il concorso fotografico d'accordo la fotografia di strada va fatta come pratica personale e nel tempo costruisci un archivio costruisci e allora vieni fuori come autore le fotografie che ha fatto vedere Umberto prima sono tutte straordinarie di per se stesse bisogna vedere se quell'autore che ha fatto quella immagine wow come diceva riesci attraverso una serie di immagini a costruirsi un suo percorso personale e a proporsi come autore allora sei un autore valido se riesci a farmi 200 fotografie con lo stesso leitmotiv ok allora sei uno bravo ma se ne fai una ad hoc ogni tanto e poi le fai anche una diversa dall'altra sei uno che spara che non capisce neanche il valore della fotografia di strada tra l'altro se voi osservate come diceva anche Umberto prima c'è poco di umano c'è poco approccio verso l'altro molto spesso si vedono figure geometriche si vedono figure si vedono silhouette non si vedono le espressioni del viso non entri nella vita di quella persona quindi c'è una bella differenza fra la fotografia umanista degli anni 50 e la fotografia di strada di oggi sono pochi fotografi di strada che entrano nella vita delle persone è difficile ci vuole amore per la vita poi la fotografia nel tempo diventa uno strumento di libertà è veramente un'esperienza straordinaria però va capita non è così semplice bisogna entrarci dentro perché anche da quello che diceva prima Umberto a proposito di etichettare è vero che succede questo è logico che succeda questo che ci siano i concorsi che ci siano queste aspettative che ci siano i marchi e i professionisti che si interessano della fotografia di strada che fino all'altro giorno la snobavano o dicevano che non esisteva e adesso si mettono a fare corsi a insegnare fotografia di strada a tutti i livelli è logico è diventato un fenomeno e tutti cercano di trovare il mezzo per inserirsi e farne qualcosa e come si diceva anche prima il fatto che il gruppo sia ci sono nati tanti gruppi ma in realtà sono tutti praticamente tutti delle vetrine per singoli fotografi il modo per riuscire a fare qualcosa di farsi strada devo dire che in public i loro fotografi sono riusciti a farlo in maniera esemplare sono stati bravi niente da dire ma il gruppo in quel senso ha poco valore non fanno qualcosa di condiviso adesso se avete altre domande che magari cerco di trovare quel lavoro perché credo sia un'altra domanda qui ogni scatto racconto una storia con tecnica funzionale racconto i libri l'approfondimento di grandi fotografi sono sicuramente indispensabili ma oltre a questo ci sono altre cose che ritenete necessarie se vuole rispondere Umberto così lasciamo la parola anche ritenete necessarie è tanto importante essere consapevoli di quello che si fa del perché scatti questa è la prima cosa è molto importante arrivare a questo punto perché poi dopo da lì si aprono tante strade si aprono tanti nuovi orizzonti raggiungere quella consapevolezza nel capire che cosa vuoi fare con la fotografia e ci vuole tempo ci vuole tempo non è immediato si sbagliano tante cose si sbagliano tanti approcci si sbagliano anche tante strade di come ci si presenta però poi dopo quando arriva è una liberazione perché ti senti bene perché sai quello che vuoi fare e nulla ti metterà in crisi nulla ti metterà in crisi sai quello che vuoi Franco se vuoi dire qualcosa vedo che stai fremendo apri l'audio sì grazie perché io con la tecnologia sono rincoglionito e non so scrivere ma mi parte l'iPad non so comunque allora intanto grazie della salata bellissima interessante quello che hanno detto mi trova molto d'accordo quello che ha detto Verde Oliva soprattutto sulle definizioni e vorrei anche fare una domanda a tutti e due loro perché Gary Winogrand che se noi guardiamo il suo stile è considerato tra i più grandi della street photography ogni volta che lo intervistavano gli dicevano tu sei uno street photographer lui si incazzava diceva ma che discorso è questo perché dovete avere un'etichetta perché dobbiamo perché dovete definirmi uno street photography allora io ho fatto anche le foto dello zoo del Bronx allora chiamatemi zoo photographer diceva perché lui odiava questo il fatto di definire di etichettare uno stile come la street photography o qualsiasi altra cosa e poi ce ne sono anche stili totalmente diversi perché c'è la soggettività del fotografo se io ho due autori che adoro tutti e due che sono diametralmente opposti uno è la Diane Arbus e l'altro è Robert Frank sono all'opposto come mezzi tecnici come approccio uno interagisce e crea un'empatia con il soggetto lo conosce ci parla usa una rollie usa un flash la persona fotografata è consapevole della sua presenza l'altro è quasi invisibile usa una light che non si fa notare spesso non si fa notare però facevano le foto in strada tutti e due cosa vuol dire questa definizione vorrei sapere i loro pareri in merito io il mio comunque mi interessa sapere loro ovviamente grazie allora secondo me quello che hai detto è giustissimo nel senso che Gary Winogrand diceva effettivamente questo siamo negli anni 80 ci sono delle interviste anche su youtube certo e lui aveva perfettamente ragione ma lo hanno fatto anche altri fotografi come Walker Evans perché devi capire che il fotografo di strada come nome fotografo di strada street photographer è sempre stato fino ad anni recenti il fotografo che faceva la foto in piazza San Marco e poi ti vendeva la foto il fatto che noi oggi noi oggi gli diamo un altro significato e cambia le cose è dal 94 quando è uscito quel libro che si comincia a parlare del genere fotografia di strada prima era un no man's land un campo libero dove il fotografo che non era né del photoclub che fa i concorsi né del fotografo professionista aveva piacere di vivere la sua esperienza fotografica in quei termini noi gli diamo nome street photography oggi o da pochi anni a questa parte perché ci fa comodo identificare un determinato ambito d'accordo è ovvio che negli anni 80 Gary Winogran si esprimesse così aveva le sue ragioni e oggi invece che è diventato un fenomeno è come dire quando Miles Davis diceva io non faccio jazz però se tu vai a comprare un disco di Miles Davis in un negozio vai nel reparto jazz non è che lo mettono sulla musica classica la stessa cosa cioè ognuno usa i termini poi anche il fatto di si può non si può ognuno Diane Arbus lo faceva in un certo modo Gary Winogran Liefried Lander in un altro esatto poi l'autore tu ti devi interessare cosa ha fatto l'autore poi ognuno fa quello che gli pare prima abbiamo fatto vedere quelle immagini di questo lavoro che sarà una mostra virtuale per il momento a Londra la galleria P21 una mostra fisica in gennaio quest'anno invece per covid è passata in cui abbiamo tirato fuori dal nostro archivio le immagini delle persone che ci guardano in macchina perché il titolo che è myself in every stranger eyes che significa riconosco me stesso negli occhi di ogni straniero ed è un omaggio all'umanità che dal Medio Oriente a tutta Europa agli Stati Uniti dove abbiamo avuto la possibilità di fotografare l'incontro umano con le persone di condivisione di uno sguardo di una parola che sono le immagini che avete visto all'inizio e quindi vengono fuori dal nostro archivio nel tempo c'è questa aspettativa oggi di tutto e subito per cui non si riesce a parlare o a far capire soprattutto a chi vuole tutto e subito che ci vuole tempo per far crescere una passione coltivarla e che nel tempo dia dei frutti se tu scatti poco e prima di scattare pensi e poi fai lo scatto e poi le metti lì e nel tempo te le riguardi e curi l'archivio solo con il tempo vedi che cosa effettivamente ti piace quali sono le cose che ti riescono meglio e te le curi fai le tue cartelline se sono file digitali o te le stampi ti fai la scatoletta di fotografie e poi nel tempo vedi che hai fotografato tante belle donne tanti cani tanti gatti e nel tempo crei questa cosa e ti nel nostro caso invece ci mettiamo a tavolino c'è un soggetto c'è una proposta e ci lavoriamo attorno e creiamo qualcosa ognuno a suo modo l'importante è che sia un'esperienza personale importante coltivata senza aspettarsi anche grandi cose perché alla fine siamo tutti fotografi quindi anche il fatto che stasera siamo qui a parlare di fotografia per me ha dell'incredibile perché ormai fotografiamo tutti trovare anche il modo di parlarne di dare una direzione un senso a quello che facciamo è molto importante io sono in linea con Giampaolo tante cose voglio aggiungere voglio aggiungere questo che nessuno dei grandi autori che abbiamo visto prima nelle slide oppure nel riferimento ha mai detto si fotografa così come fotografo io esatto ogni grande autore fotografa quando Wino Grande dicevano sei un fotografo di strada sei un street fotografo magari non capiva perché io sono così e fotografo in questa maniera perché definirmi se uno di loro voleva fare qualche altra cosa io personalmente ad esempio spesso vengo tirato in ballo come fotografo di strada come uno dei primi magari che in Italia ha fatto determinate cose anche a livello di serie di progetti ma se analizzo quello che ho fatto io ho fotografato la mia vita ho fotografato sotto casa ho fotografato il mio tragitto casa lavoro i miei colleghi di lavoro i miei familiari gli amici ho fotografato il mio quotidiano e sentivo di fare questo lo sento sono consapevole lo voglio fare quindi proprio per questo si arriva a un punto dove nulla ti mette più in crisi nel momento in cui tu sei convinto e ha scelto quello che vuoi fare neanche le definizioni no ma io mi sentite io mi trovo guarda io ho un fotografo da una vita e ho 60 anni per cui sono un ammalato di fotografia e ho speso più soldi nei libri che nelle macchine fotografiche di sicuro è proprio una malattia personalmente mi interessava sapere la vostra opinione io credo che c'è nella fotografia c'è una enorme soggettività perché ogni essere umano è unico e a me capitava di andare negli stessi posti con i miei amici fotografi vicentini tornavamo a casa andavamo con le stesse attrezzature stesse pellicole tornavamo a casa ed eravamo e guardavamo le foto diapoglittivi a quel tempo sembrava che fossimo stati in posti opposti perché noi siamo cioè vediamo quello che siamo certo vediamo quello che siamo è evidente che se uno vede se vede un'America da 21 anni ed è anche la cosa più bella della fotografia perché in questa maniera in questa maniera tu mostri te stesso è certo mostri te stesso e conosci te stesso io amo io amo io amo la foto analogica e in pellicola perché mi piace il provino a contatto perché quando facevo diapositive buttavo via le più brutte tenevo le migliori e penso che in digitale non sono non uso il digitale ma penso sia uguale il provino a contatto è feroce ti ricorda quello che hai fatto anche quello che non avresti voluto fare però io non so perché la gente va dal psicanalista basta che guardi la foto che fai e capisci chi sei perché se tu sei una persona con una certa sensibilità con una certa cultura una certa conoscenza si vede nelle tue foto se uno vede Passing in America di Cattier Bresson e vede The Americas di Robert Frank e le foto del libro degli americani di Walker Evans si vede che sono tre persone che hanno una storia diversa ma è evidente ma anche nello stile basta guardare Bresson aveva il giubbetto era snob era ricco aveva il giubbetto di Camos aveva il fullerino e quasi distaccato nelle sue foto in America che guardava da fuori la Robert Frank che sembrava un barbone a vederlo con la barba incolta sembrava un nomless quasi a vederlo e vede le sue foto sono anche stampate io ho visto un casino di monstrasse anche stampate in maniera poco non ci dava una grande importanza perché sei tu essere umano e la fotografia è un mezzo che esprime quello che sei secondo me ma questo vale anche nella musica è così è così posso leggervi altre due domande e voi come siete evoluti dal punto di vista fotografico il vostro modo di approcciare l'inizio è cambiato nel tempo e la seconda domanda è se nella street photography la fotografia deve essere singola o deve essere o ci può essere anche una sequenza quindi avete cambiato come stile? Allora ecco non lo so se sono cambiato come stile io ricordo le prime le prime immagini che scattavo ero molto più lontano alle persone per discrezione anche per paura poi appunto raggiungendo quella consapevolezza ti rendi conto che affronti la fotografia in maniera in maniera differente non c'è dubbio e quindi ti avvicini e quindi cominci a sperimentare perché tantissime fotografie sono frutto di una sperimentazione anche fotografie magari di uscita bene sono frutto appunto di a volte di fortuna di caso ma anche di sperimentazione quindi io dopo un certo percorso ho iniziato a inquadrare il perché del mio fotografare e ho puntato e ho iniziato a fare quello che sentivo di fare senza più preoccuparmi di dover seguire o di dover rappresentare certe cose quindi probabilmente sono cambiato e sono convinto che cambierò ancora l'altra domanda era se concepite la street photography come una foto singola oppure ci può fare anche una sequenza io ho iniziato proprio così con delle serie fotografiche senza conoscere che autori che molto molto prima di me avevano appunto fatto una sorta di progettualità nella street photography ricordo Curtis se non sbaglio che ha fotografato quelli che leggevano i giornali quindi ha fatto una serie di fotografie Elliot Terwitt appunto guardando riguardando l'archivio si è reso conto di aver fatto tante fotografie dei cani e ne ha fatto uscire un libro una mostra la serialità la serialità esiste nella fotografia di strada come esiste la foto singola che dice tutto quell'attimo ok però non è sempre l'autore che decide qualcosa a mostrare è sempre l'autore che decide di realizzare o costruire qualche cosa se io ho un'idea che meglio riesco a rappresentare attraverso una serie io sviluppo la serie se ho colto una fotografia che mi mi argomenta una determinata situazione un'unica fotografia mostra solo quell'unica fotografia dipende da te dipende da quello che vuoi fare e noi per quanto riguarda la nostra esperienza siamo nati in piena era analogica quindi siamo nati con anche con una certa passione verso la stampa in camera oscura e siamo rimasti sempre legati a questo approccio perché non abbiamo visto nel dover cambiare metodo anche tecnico qualche vantaggio scatti poco se pensi prima di scattare già 36 scatti sono tanti se li fai in in mezza giornata 36 sono tanti se ci ragioni prima di scattare che poi a sistemare tante foto non è facile per nessuno per di più stamparle usarle fisicamente stamparle il provino la stampa la selezione e quindi siamo rimasti legati a questo metodo operativo perché è funzionale a questo tipo di fotografia se fossi un professionista che va in giro per scattare fotografie sarei passato sicuramente al digitale ma se devo andare in giro a fare fotografie per piacere per passione è fondamentale ragionare prima di scattare scattare poco perché poi lavori meglio questo è fondamentale anche per chi usa il digitale di non scattare a caso dire ne faccio 100 poi una di buona c'è perché poi devi guardarle quelle 100 e fanno confusione quindi ragionare prima di scattare scattare poco fare selezione e non buttare via niente perché se hai scattato usando la testa la funzione dell'archivio è fondamentale perché con il passare del tempo è come il buon vino che metti a maturare se hai fatto una fotografia usando la testa anche come si dice con la coda dell'occhio hai visto qualcosa ti ha colpito e scattato magari dopo due giorni o tre quando sviluppi il rullino che è importante anche questo tempo di non poter vedere subito le immagini mentre stai scattando sei in una determinata situazione emotiva non devi star lì a guardare le immagini le guardi dopo altrimenti io sto parlando di fotografie di strada non di foto di matrimonio che devo vedere se ho preso che mettono l'anello sto parlando di una situazione particolare che chi ha vissuto capisce dopodiché guarderò le immagini e siccome la situazione di scattare dal vivo è una situazione reale poi quando guardi l'immagine è un surrogato l'immagine di quello che hai vissuto molto spesso tu ti aspetti sempre qualcosa di più quindi è bene che passi del tempo prima che tu vedi le immagini e se ne asci passare ancora di più è meglio la selezione va sempre fatta molto dopo noi abbiamo sempre usato questo metodo operativo tra l'altro c'è anche questo fatto un po' simpatico se volete che noi che abbiamo sempre usato la pellicola siamo dei romantici e dei nostalgici se invece un giovane usa la pellicola è un figo quindi a noi ci va male da questo punto di vista che non capisco in realtà siamo sempre stati ben consapevoli della funzionalità di questo metodo operativo e non l'abbiamo mai abbandonato la cosa che ci sorprende di più forse di tutti gli incontri che facciamo soprattutto con i giovani è di vedere l'effetto che fanno le stampe fotografiche di camera oscura sulle persone che non le hanno mai viste rimangono folgorati ogni volta rimango sorpreso ma cosa hanno queste stampe di eccezionale rimangono assolutamente colpiti e per questo riesco a capire perché io che ormai ne vedo tutti i giorni insomma è un po' diventato il mio pane quotidiano vedere gli originali è fondamentale vedere una stampa originale di Eugene Smith non è come vederla stampata in un libro bisogna vederla dal vivo possibilmente quindi adesso già che forse riesco a con noi vi faccio vedere quattro minuti di questo video che vi ho anticipato prima se ancora una volta io adesso voi vedete il mio schermo condividi adesso sì adesso ve lo lancio quattro minuti quindi un po' Grazie a tutti. 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 Se avevi altre domande o... No, qui sono finite, Gianpaolo. Voglio farci vedere sia tu che Umberto qualche vostra foto ulteriore? Io sto ancora cercando quel... che cosa dici, Umberto? Però le devi tenere la freccia e le devi tenere la freccia e vai giù in fondo, c'è scritto con lo schermo. e poi entri nel file che hai deciso sull'art disk e non sull'art disk e non su desktop, quindi non li ho... Adesso io ho trovato... Allora... Allora... questa è un'immagine... Allora... Perfetto, perché io ho lo spazio... questa pubblicazione con questa pubblicazione con una mostra... in Olanda... Adesso cosa ho fatto... Niente, è solo la prima pagina questa... come mai no... non mi va avanti... Non capisco perché non vado avanti... Forse perché c'è quel puntino lì, mostra fronte spizio separatamente... Ok, io... Niente, vado... Provo a cambiare la pagina... Eccola lì... Sì, adesso ho trovato... Però... Pensavo di andare avanti anche... Ecco, ecco... Perfetto... Allora, questo... Questa è un'immagine a colori di Umberto Verdoliva... Lo conosco da tantissimi anni perché quando cominciò ci scrisse delle mail per parlare con noi... Poi per una serie di motivi non ci siamo trovati, ma negli anni siamo stati in contatto... E poi ci siamo incontrati, conosciuti... Direi che la stima è reciproca perché comunque l'approccio di Verdoliva è sicuramente propositivo, positivo... Con un modo di fare assolutamente di... Appunto di positività verso questo genere, verso quello che può rappresentare la fotografia di strada. Ecco, questo era il titolo... Crossroad... Un progetto di fotografia di strada... L'immagine è di Nino Romeo... Anche lui un fotografo italiano che però vive a Londra da alcuni anni... Il testo... Un'altra immagine di Chiapperini... Una fotografia di Mary Cimetta che all'epoca faceva parte con Umberto Verdoliva del collettivo spontanea... Due immagini di Nico Chiapperini... Non so se riuscite a vedere i nomi degli autori che sono piccoli sotto, ma credo di no. No, si fa fatica. Chiapperini... Adesso le scorro così velocemente e vi fate un'idea del lavoro. Queste sono di Mary Cimetta, molto ironiche, delle bellissime fotografie. Questa è una fotografia di Leonio Berto... Verdoliva e Mirabella... Leonio Berto e Chiapperini... Fatima Abadi e Carmelo Eramo... Anche lui che era all'epoca un componente di spontanea... Che continua, mi pare, a fare questo bellissimo lavoro di documentazione della sua regione... dei suoi... dei luoghi in cui vive. Una foto di Fatima Abadi e Umberto Verdoliva. Carmelo Eramo e Verdoliva. Davide Scapin... E quella... Enzo De Martino, se non ricordo male... Enzo De Martino, sì. Che è un fotografo di Roma che abbiamo contattato, abbiamo trovato il suo sito e gli abbiamo proposto di partecipare. Poi lui ha partecipato anche a diverse altre nostre iniziative... Enzo De Martino, Davide Scapin... Mirabella, non c'è a sinistra... Fatima Abadi e Stefano Mirabella... Questa bellissima immagine di Leonio... Nino Romeo e Leonio... Nino Romeo e Leonio... Romeo... Nico Chiapperini a destra... Ve le scorro velocemente che... Vi fate un'idea di quello che per noi è un po' tirare fuori quello che ci piaceva di più dell'approccio alla fotografia di strada. Che non è quella diciamo così semplicemente geometrica o di rimandi molto spesso che denigrano a volte anche... Voi sapete che c'è tutto il filone dello sparare il flash in faccia o cose di questo tipo che a noi onestamente non piacciono ma non perché non siano belle le fotografie perché possono essere anche molto belle. Però è l'approccio che non va bene rispetto alla persona che incontri per strada. Ecco preparare un lavoro di questo tipo non è mettere insieme quattro foto dai fa il libro. Per creare la sequenza perché abbia un suo senso anche dal punto di vista visivo parti da un corpus di due o trecento foto vai via scremando quelle migliori e poi devi metterli insieme in ordine armonico. E lì è un lavoro di limatura che può portare addirittura a non so a venti bozze consecutive finché trovi se voi fate caso i colori molto spesso da una foto all'altra sono... combaciano il marrone in questo caso poi si passa al blu bisogna che ci sia un'attenzione a questo tipo di cose perché funzionino le immagini anche la posizione dell'immagine rispetto alla pagina. Se voi prendete i libri che si facevano negli anni cinquanta a livello di grafica sono nettamente superiori a quello che si fa oggi che abbiamo i computer. Facevano dei libri che sono di una bellezza sconcertante paragonati a quelli di oggi e oggi abbiamo dei mezzi che sono estremamente potenti per fare quello che vogliamo. Ecco questo è un lavoro che sinceramente mi aspettavo dovesse avere anche più successo rispetto a quello che ha avuto perché dal mio punto di vista è un modo di trattare la fotografia direi con maturità rispetto a quello che è il mezzo fotografico. Non più legato a un discorso di io sono più bravo di te ma è un discorso sulla fotografia. Adesso alcune immagini le vedete un po' con colori strani perché è il pdf che è... Il libro si chiama? Crossroad. Un incrocio di strade tra i vari autori. Testi. Questa è la foto finale di Ciapperini. Ecco questo è quello che abbiamo fatto qualche anno fa sperando così di attivare qualcosa. Ma vedo che il discorso sulla fotografia di strada è molto appunto di moda, tirano di più i concorsi, dare un premio, fare cose di questo tipo. Mentre non so, dei festival, come ce ne sono peraltro, che fanno vedere varie campane, varie discorsi sulla fotografia, autoriali, sono molto più interessanti secondo me. Quindi far vedere dei lavori completi senza dire io sono meglio di te. Come ho detto prima uno può fotografare un fiore, fare un capolavoro, mentre l'altro documenta cose di cui tutti dovrebbero interessarsi. Per il bene di tutti. Tutti hanno diritto di fare le cose secondo quello che possono fare. Io invece posso far vedere l'ultimo lavoro che ho realizzato, che fa parte di un lavoro più ampio che sto facendo. Da quando sono tornato a Napoli a lavorare, io sono andato a Castellammare di Stabia, poi a 30 anni ho lasciato la campagna per lavoro. E mi sono poi ritrovato in Veneto, a Treviso, dove abito. Poi, ironia della sorte, l'impresa con cui lavoro mi ha rimandato in campagna, a Napoli. E quindi ho ritrovato certe situazioni che avevo dimenticato, ho ritrovato la città che avevo lasciato tanti anni fa. E Procida è l'isola che io ho di fronte al mio ufficio. Io lavoro a Pozzuoli e quando mi affaccio vedo Capri e poi Procida e dietro c'è Ischia. E quindi da quando sono nel 2017 sono rientrato lì e ho iniziato ad andare a Procida nei weekend quando non tornavo a casa. È un'isola che amo tantissimo. Poi, ironia della sorte, qualche mese fa è stata anche selezionata come capitale italiana della cultura 2022. E sto presentando questo progetto che mi ha aiutato ad editare Barbara Silve, una fotoeditor giornalista, caporedattrice di Ice Open Magazine, una rivista che prima, oggi purtroppo solo web, ma prima era stampata. E' nata questo tipo di fotografia, dove io mi sono immerso nella bellezza dell'isola e ho cercato di cogliere appunto quella poesia, quella sensazione che ricerco nelle mie immagini, raccontando la bellezza, la bellezza soprattutto della natura, del paese, della gente. E mi sono immerso in questa cosa qui. Ma falle vedere grandi, perché le vediamo piccole, Umberto. Ah, si vedono piccole? Sì. Adesso? No, c'è la schermata con tutte le foto piccole. Interrompo la condivisione, condivido lo schermo, strumenti immagini, presentazione, così va bene? No, sono sempre piccole. Provo a cliccare sopra la prima. E' più grande di così? Io le vedo grandi, poi non so. No, non partono grandi. Va bene? No. No. Non si vedono? No. Si vede adesso? Si vede sempre la schermata con le foto piccole. Non so perché. Probabilmente è stato condiviso soltanto l'applicazione cartelle, invece di condividere tutto lo schermo. Viceversa si può disattivare un attimo la condivisione schermo. Sì. Avviare la prima foto. Avviare la prima foto prima di condividere. Ah, ecco. Una volta che è avviata la prima foto, condividere e scegliere quella foto in condivisione. Ma ecco. Ma ecco. Ma ecco. Adesso? Sì. Sì. Ok. Quindi, ecco, queste sono le immagini di cui vi dicevo. Anche per me, io ho iniziato con la fotocamera digitale. Io ho iniziato con il digitale. Il digitale mi ha avvicinato alla fotografia. Poi ho sentito l'esigenza, anche studiando, guardando tanti libri di autori, di capire che cosa mi ero perso fino ad allora. E quando ho iniziato a scattare in analogico mi sono deso conto che forse era il mezzo più adatto al mio tipo di fotografia, alla mia visione, ai miei tempi e a quello che sento di voler fare con la fotografia. Quindi tutti i miei lavori che faccio oggi li faccio tutti a pellicola. Mi piace la stampa e poi soprattutto mi piace il tempo di sedimentazione che ti permetta la pellicola. Esatto. Una cosa, non rinnego il digitale, perché il digitale è importante quando hai bisogno di fare delle cose velocemente, insomma, è utile. Ma nel mio caso, per come intendo io la fotografia, preferisco farla a pellicola, lavorare su pochi fotogrammi. 36 se scatti li consumo in dieci giorni. Quando ho voglia così di non pensare alla fotografia, scendo con la macchina digitale in mano. Quando invece voglio fotografare, prendo la macchina, la Nikon FM2 N che ho con me sempre e scatto con quella. E quindi raccontare un po' questo luogo, attraverso dei particolari, dei dettagli, attraverso l'incontro con le persone. E' un'isola sicuramente meno conosciuta rispetto a Ischia o a Capri, più rurale, come dire, meno turistica. Ma è molto, molto bella. Il silenzio soprattutto che c'è tra le strade. A volte ho passato anche la notte lì. Sono due ragazzi che hanno comprato una barca a vela e fanno girare i turisti, affittano e noleggiano la barca ai turisti. E questo è solo un appendice perché poi il lavoro più grande ce l'ho su Napoli. ed è un lavoro che, a meno di qualche foto che ho messo o postato sul web, insomma, ma la maggior parte delle fotografie ce le ho nel cassetto e stanno lì in attesa di capire il senso con cui puoi mostrare la città. Perché comunque parla di me, parla del mio ritorno, parla dei miei ricordi. Quindi non è semplice. Non è semplice trovare la quadra per tutto e ho bisogno di tempo, ho bisogno di sentire le sensazioni dentro di me. Certe cose non riesco a farle di fretta. E questo è il lavoro. Con questa è l'ultima foto. Ma questo tuo aspetto onirico che porti avanti nella tua foto è molto forte, anche lascia sempre una domanda, un'incognita, una doppia lettura, una doppia esposizione. lo senti dentro di te e in questo modo che sei riuscito a cambiare dalle prime foto a quelle di oggi. Sì, sicuramente. Lo sento forte dentro di me e quindi cerco di trasmetterlo attraverso le immagini che faccio. La ricerca della bellezza, la ricerca della poesia è per me fondamentale. Ci sono troppe brutture nel mondo. Ci sono troppe, c'è troppa violenza, c'è solo cose che non funzionano. E quindi la fotografia mi permette di staccare da tutto questo. E cerco di tirare del bello da quello che vedo, da quello che sento. molto bello come aspetto, come modo di vivere e anche come ricerca. Faccio i miei complimenti perché non tutti hanno, pur bravi fotografi, non tutti hanno questo senso poetico della vita e della fotografia, chiaramente. Grazie. Fatto i debiti, i rapporti di spazio e il tempo, mi ricordo un po' Avedon, che da una parte faceva le fotografie di moda e di quant'altro, e poi andava per tre anni di seguito nel West americano a fotografare i bambini con i pitoni o i minatori per recuperare il contatto vero con la gente e con la sua vera fotografia. Certo, certo. Per me la fotografia non ha nulla a che vedere con il guadagnarsi da vivere. La fotografia la possono fare tutti, la fotografia è un qualche cosa che esprime te stesso ed è un strumento bellissimo. È una passione, come tutte le passioni. può essere la musica, può essere la pittura, può essere la scrittura. Ogni passione è uno strumento per parlare di te. Io con la fotografia è questo che faccio. Sostanzialmente alla fine è questo. Se poi documento, se poi rappresento una certa società contemporanea, se poi faccio vedere delle cose di oggi, dei tempi di oggi, è un qualche cosa che è a fianco. Ma con la fotografia parlo di me, parlo di quello che vedo, di quello che sento. E anche Shanna dice le stesse identiche cose. I suoi libri continuano a ripetere che nella fotografia si vede lui stesso. Lui poi è un filosofo, tu sei un architetto, quindi avete in ogni caso una visione della vita che si proietta al di là del momento e del quotidiano, pur essendo immersi chiaramente nel momento e nel quotidiano. Ci sono altre domande? Ci sono altre cose? Volete qualche richiesta ai nostri due amici della serata? Ce ne sono ancora un paio in lista, se guardi. Ancora un paio. È possibile per voi scattare in digitale pensando in analogico? Scatto in analogico? Non mi pongo il problema. Cioè, proprio no. No, no. Cioè, no, no. Scattare in digitale ti mette in condizione di fare tanti e tanti scatti. Cioè, il digitale ti fa scattare tantissimo. Quando ho in mano una macchina digitale scatto chiaramente cento foto rispetto ai sette, dieci scatti che potrei fare in un pomeriggio. Perché questo? Perché è proprio lo strumento che ti dà la possibilità. Scatti, scatti, scatti. Provi, provi, provi. Fai tante cose. E questo sistema qui non mi piace più. Non mi piace più. Per questo, quando inizio un lavoro lo faccio adesso in analogico. Quando parte un'idea parte così. Perché? Perché deve essere pensata. Perché sento di dover pensare la fotografia. Sento di dover... Me ne perdo tantissime, magari. Magari gli attimi sono sempre più difficili da cogliere. Sono sicuramente più difficili rispetto al digitale. No, no, no. Il digitale sono delle piccole mitragliatrici che hanno in mano e quindi è facile oggi cogliere l'attimo. Però io non sto parlando di attimo. Io sto parlando di sensazione. Io sto parlando di sentire certe cose. Quindi per me, per questo, dico va bene così, va bene con... Certo che se prendo la macchina fotografica digitale in mano oggi molto probabilmente scatto sicuramente meno fotografie rispetto agli altri miei colleghi fotografi scattano in digitale sempre. Questo è sicuro. Comunque all'epoca quando abbiamo cominciato noi si faceva la scelta fra bianco e nero e colore. Oggi non si fa perché scatti a colori poi eventualmente converti in bianco e nero. Questo ti poneva di fronte a un bivio. Io fortunatamente all'epoca ho deciso di fare bianco e nero perché mi sono reso conto solo dopo riguardando le immagini che facevo a colori che non ho occhio per il colore e purtroppo è così. Me ne sono reso conto preparando quel libro che hai fatto vedere prima del 2012 di Leonio Berto quando dovevamo vedere veramente migliaia di fotografie perché ne ha fatte una marea e veramente tutte di una perfezione a livello di scala cromatica direi di colori all'interno dell'immagine straordinari io mi sono reso conto vedendo le sue immagini che io non ho occhio per il colore mentre lui ce l'aveva di saper mettere insieme i colori di una scena oltre al significato quindi lui aveva un'arma in più rispetto a me nella codifica di un'immagine io mi riduco all'essenziale al disegno di una scena che ho di fronte agli occhi e l'essenziale è proprio fare il disegno l'immagine in bianco e nero e scegliendo la pellicola rimani legato a quella ho provato anche a fare delle foto a colori cioè usando una macchina digitale la uso a volte per altri lavori che non hanno niente a che vedere con la fotografia di strada e mi rendo conto che non sono portato per quel tipo di ormai sono sono così però credo che anche per chi nasce come digitale l'educazione all'immagine allo studio della storia non solo della fotografia ma del rapporto dell'uomo con le immagini ti pone di fronte a una scelta di dire no quella foto non la faccio e quindi riuscire a scattare meno anche con il digitale diventa una scuola un esercizio da porsi perché poi sistemare quella mole di immagini diventa troppo un lavoro troppo presente importante e quindi rispetto al digitale l'analogico è che non butti via niente perché i negativi ti restano e vedi quanto importante è questo fatto quando andando a rivedere il lavoro di anni passati tiri fuori delle immagini che non consideravi importanti e che lo diventano con il passare del tempo e questo in digitale ho paura che per tanti fotografi non succede più ed è un errore mai buttare via niente se hai scattato ragionando li metti da parte fai un archivio per ordine cronologico poi fai delle cartelle con gli argomenti e vedrai che con il tempo se ne fai un buon uso ti torna comodo un po' tutto quello che hai fatto c'è una bella domanda anche di Giancarlo Torresani che ho visto nella chat qui che dice ho sentito con molto piacere che al di là delle possibili sfumature e declinazioni il fattore che non deve assolutamente mancare nella street fotografia e che ogni scatto deve raccontare una storia con una tecnica funzionale al racconto i libri e l'approfondimento dei grandi fotografi è sicuramente indispensabile ci sono altre cose che ritenete necessarie saluto a Giancarlo e ringraziamo sicuramente grazie Umberto ciao Giancarlo una cosa che ritengo interessante assolutamente necessario secondo me Giancarlo è quella del del proprio archivio fotografico cioè analizzarlo analizzare perché analizzare l'archivio fotografico personale significa guardarsi guardarsi dentro guardare anche i tuoi cambiamenti guardare quello che effettivamente è la tua ossessione quello che effettivamente è quello che che cerchi nella street photography oppure nella fotografia in generale è quello che cerchi tu e quando per me l'archivio fotografico veramente è una scoperta è un è una fonte inesorribile sia di idee che di stimoli quindi ecco ritengo necessario scandagliare il proprio archivio di guardarlo rivederlo sempre negli anni dai primi scatti fino alla fine è lì che ti si apre un po' la mente anche è una è una memoria vivente praticamente che va alimentata giorno dopo giorno e che può portare i frutti diciamo a distanza di tempo l'archiviazione è fatta come diceva Giampaolo con un certo criterio aiuta molto poi a capire come dicevate voi capire se stessi e qual è la strada che stiamo che stiamo percorrendo con la fotografia io se posso aggiungere credo che io sono un grande appassionato di fotografia soprattutto di libri di sono molto più mi sento molto più appassionato di fotografia che fotografo e credo veramente che se non avessi avuto questa così questa idea di fare questo piccolo gruppo di amici con cui condividere la fotografia forse avrei smesso di fare fotografie questa cosa che abbiamo creato di condividere insieme la passione per la fotografia questo gruppo con finalità intenti comuni ha fatto del gruppo Mignon un'esperienza assolutamente straordinaria credo per tutti noi è un'esperienza incredibile perché sono 25 anni non ci siamo mai fermati abbiamo sempre tantissime cose da fare tante saltano tante non si fanno tante si fanno invece ed è un veramente una cosa che ci appassiona sempre di più e che ci mette veramente in una posizione speciale siamo molto contenti di questo e finché dura speriamo che che duri all'infinito perché se c'è una cosa che non credo di essere una persona invidiosa io però ho avuto una sincera forma di invidia per persone come Walter Rosenblum e Giovanni Umicini che quando parlavano di fotografia trasmettevano una passione un amore per la vita che non ho visto in altre persone a tutti voi sarà capitato credo di vedere non so qualche inaugurazione dove parla Italo Zanier che trasmette una passione per la fotografia che è infinita queste persone che hanno insomma rimangono giovani sostanzialmente applicandosi a questa materia uno magari lo fa con i francobolli e un altro con un'altra cosa ma l'importante è mantenersi vivi e appassionati ma condividendolo con gli altri secondo me questo è il valore aggiunto di quello che siamo riusciti a fare perché credo che l'epoca dei grandi fotografi ci sono un sacco di fotografi che si credono chissà chi perché conoscono qualche autore di ferimento di nicchia che conoscono in pochi e fanno cose che si facevano anche cento anni fa a me fanno un po' da ridere l'importante è raccontare il proprio tempo lasciare una traccia facendolo condividendolo con gli altri noi abbiamo fatto un sacco di mostre e abbiamo avuto più soddisfazione da persone che entravano per caso a vedere la mostra e che facevano dei commenti assolutamente pertinenti con le immagini piuttosto dell'esperto fotografo che ti faceva il commento sulla qualità della stampa insomma credo di aver detto tutto ultima domanda per Verde Oliva sapere cosa rende pubblicabili le foto molto sfocate ho visto le due ultime delle mie che cosa rende pubblica perché non sono piaciuto però vi metto no penso che lui dica che normalmente qualsiasi scuola di fotografia a parte le foto di mosso ti chiedono una foto perfettamente visibile a fuoco mentre tu ami anche questo non è uno sfocato è uno diaframmato più che altro sì e che cosa rende pubblicabile rende pubblicabile la mia sensazione quello che io ho sentito guardando quelle foto e le reputo pubblicabili le reputo che rappresentano uno stato d'animo che per me è importante quindi le ho pubblicate possono piacere o non possono piacere va bene va bene per me va bene non ho non ho problemi sul discorso non devo piacere per forza non mi interessa piacere per forza va bene qualsiasi tipo di nel momento in cui pubblico sono soggetto a delle critiche o a come a degli apprezzamenti quindi accetto accetto con anzi anzi è bellissimo trovate persone sincere sul tuo sul cammino fotografico quelle che pensano una cosa e te la dicono pure spesso non avviene questo ed è una ricchezza sentire sentire anche le critiche ecco posso buonasera Luciano posso fare una domanda certo eccoci eccoci intanto grazie infinitamente a voi Gianpaolo Umberto per la meravigliosa serata personalmente io sto cercando una mia identità e cercare di capire cosa si dice di più al mio fotografare brancolo completamente nel buio infatti si vede nero il tuo sgarro dai aspetta scusa dai hai ragione perdono stavo controllando l'audio non audio grazie Gianpaolo ci sono ecco ciao io dico brancolo nel buio cerco di come si può dire con la macchina fotografica di cogliere la bellezza e il significato di una vita frenetica tutto il giorno del lavoro di corsa e così via quando ho la macchina fotografica ritorno stacco diciamo dal mio mondo ma al di là di questo che non voglio andare avanti e così via in queste molto bello quello che hai detto ma per me la fotografia è un è un'evasione mi fa stare bene se c'è poco da fare a me fa stare bene e lì è di un paio di settimane che mi chiedo e anche nel circolo stesso di commentare delle foto io non sono capace faccio una fatica enorme nel senso ma chi sono io per interpretare chi ha scattato una foto c'è quella che mi entra visivamente subito ecco la domanda è questa come fate voi io personalmente commentare una foto faccio fatica dico mi piace ma alle volte come hai detto tu Giampaolo è più gratificante un mi piace o un apprezzamento di una persona che non ha nulla a che fare con la fotografia perché l'apprezzamento della persona che non sa nulla di fotografia vuol dire che gli è entrata perché poi c'è l'esperto della fotografia che ti dice ma è storta sì va bene è vero che era storta la fotografia però io non ho neanche visto che era storta perché mi sono concentrato sul messaggio e su quello allora la domanda è come fate voi a commentare una foto io non ci riesco mi sembra di essere banale e di usare frasi fatte grazie ancora e buona serata a tutti ma non ho capito una cosa tu ti riferisci a una tua fotografia o in senso no quella degli altri non so ci si chiede a fotografare ma è logico io faccio fatica non ci riesco mi sembrano frasi fratte voi le commentate siete ma è ovvio che parti dal tuo punto di vista senza voler segnare niente a nessuno di base sulla tua esperienza in base a quello che hai visto fai una chiamala diagnosi chiamala come vuoi però è evidente che è solo un punto di vista non è che devi fare che io sono il professore e tu sei l'allievo cioè ognuno poi l'importante è che ti fai tu secondo me è importante che il fotografo sia consapevole di quello che fai perché lo fa e che senso dà a quello che sta facendo perché a me fa un po' da ridere le persone che si aspettano dagli altri il senso di quello che fanno che magari vanno alle letture portate devi essere tu che presenti il tuo lavoro se poi il tuo lavoro dice effettivamente quello che pensi è un discorso ma devi essere consapevole di quello che fai vedere perché devi solo trovare risposta al fatto se è vero che quello che ci vedi lo vedono anche gli altri ma devi sapere che cosa hai fatto non devi pensare che gli altri scoprono un tesoro su quello che hai fatto che tu non gli dai nessun valore cioè è assurdo quindi bisogna essere consapevole quando all'inizio della serata io ho introdotto dicendo ho fatto la lettura di quel brano dicendo che questo ragazzino si accorge di cose che non aveva mai notato a due passi da casa è la consapevolezza cioè io vado per strada e mi trovo in un certo stato d'animo quando faccio quelle fotografie e se riesco a cogliere qualcosa e trasmetterlo agli altri bene altrimenti devo cambiare devo fare qualcosa l'importante è essere consapevoli dico consapevoli e poi ovviamente che dia una soddisfazione a se stessi esatto cioè che che dica qualcosa di se stessi poi gli altri può piacere o non piacere anche adesso Umberto quando ha detto io mi sento di presentare le immagini così è stato lì è stato un grande che me le fa le regole perché che regole sono io se ti ho presentato la foto sfocata vuol dire che per me va bene così non si pone neanche il problema perfetto grandissimo secondo me poi dipende dai punti di vista se sei una scuola di teologia che ti dice questa cosa non si fa io però voglio dire anche una cosa è molto importante il confronto con le persone nel senso che chi fotografa e vuole comunque fare un passo avanti vuole capire di più vuole migliorarsi a livello fotografico e questa è una cosa che pacifica normale in tutti anche se avessi avuto la passione per la pittura mi sarebbe piaciuto sapere il parere di un pittore affermato sul mio quadro è normale questa cosa qua uno scrittore presenta i suoi manoscritti degli editori oppure ripresenta delle giurie di concorso e così avviene anche per il fotografo chi vuole migliorare si mette in gioco e si confronta e si confronta poi è chiaro ci sono le persone che trovano sono fortunata magari trovano delle persone che riescono effettivamente a far emergere da quel lavoro da quella fotografia da quell'opera un qualche cosa che l'autore non ha mai pensato io mi sono trovato sui tavoli di lettura di portofolio davanti a dei critici di fotografia che conoscevano molto più di me sia di storia che di pratica proprio fotografica e comunque ci sono stati delle cose che sì non capivo ma che mi hanno fatto diflettere e mi hanno dato una scossa ed è importante questa cosa è importante il confronto quindi la tua domanda Luciano è come parlate di una fotografia quella fotografia per me all'interno contiene degli elementi che se sono importanti e mi arrivano io li noto e dico che cos'è in funzione di quello che sono io in funzione della mia sensibilità del mio modo di fare è chiaro è soggettivo è un mio punto di vista che se è negativo non è detto che io sia il eternitario della verità assoluta no ma è un punto di vista negativo che ti può aprire un orizzonte può dire ma lui la vede così ma forse è così e c'è un confronto con altre persone fino a che non ti si apre un po' la panoramica di quello che il tuo lavoro esprime porta con sé e ti fa un'idea ma questa è un'idea importante aiuta aiuta a crescere io la penso così è importantissimo aprirsi mai sentirsi arrivato sotto certi punti di vista io se posso mi metto sempre dalla parte dello studente perché è importante è importante mettersi a confronto con altre persone trovo grande quello che stai dicendo Umberto e ci aggiungerai se mi permetti anche che il confronto non si fa solo con le persone vive ma si fa anche con i morti nel senso che la bibliografia i libri e guardare le foto di chi ha fatto foto prima di noi per me aiuta moltissimo non solo come fonte di ispirazione ma anche nel tentativo di capire perché il fotografo ha fatto quella foto e digerire questa foto a meno a modo mio chiaramente per riuscire a interpretare vedere capire quello che sto facendo io è una grande cosa quindi non solo confronto con il verde oliva che mi può fare una critica guardando come dicevi tu un portfolio ma anche un stesso nome di prima Avedo che in base alle sue foto mi può insegnare tanto e questo è la discorsa come diceva Romagnosi del libro che a tutt'oggi è una cosa per me fondamentale ci sono altre belle domande sono tante di domande vi ringrazio vi ringraziamo per questo ma poi tra l'altro dobbiamo lanciare l'invito che adesso quando è finito il covid ci inviteranno a fare i corsi a Vicenza allora uno un altro lo fa il verde oliva e poi facciamo lo spareggio un piacere un grande piacere quanto mi manca l'Italia ragazzi perché sei in estate e lì dove sei tu andiamo tutti a parte ma mi mancano questo tipo di conversazione che qua non trovo e vivo qua da 21 anni ma vivo è più bello ma dove abiti abito a Miami ah a Miami ok allora veniamo a trovarli quando quando abitavo a New York andavo lì qua ho la mia camera oscura in casa ma a New York andavo alla camera oscura locale c'era un club e lì c'erano persone di un certo livello che New York è una città centro del mondo secondo me ancora ma a Miami prima parlavate della street photography del festival siamo di un altro livello cioè quando quando io vedo che per esempio non so la Laika Storker qui vicino a casa mia invitano un fotografo a fare una serata e tutte le persone vengono con la Laika al collo come forse delle medaglie proprio non lo capisco è una roba è proprio una roba da foto amatoriale da circolo di basso livello ecco mi manca l'Italia nel senso che mi mancano queste cose qua queste conversazioni qua che poi la fotografia è solo un mezzo perché poi si parla di vita è la vita che conta mica la fotografia quello che ha detto lui due minuti fa il confronto vale anche nella vita certe volte tu ti confronti con una persona e sicuramente la vedi in maniera diversa da te perché ti confronti perché magari ti apre un mondo che tu non ti eri accorto è umano cioè la fotografia è la costruenza della vita secondo me assolutamente ben invitati anche Umberto sarebbe piacere molto mi sarebbe molto piacere io non invitateli voi perché non ho i contatti chi vuol venire a me interessa scatanare il dibattito perché mi piace ripeto mi piace parlare della vita per me la fotografia è legata alla vita io fotografo è un diario della mia vita la fotografia io ho viaggiato in lungo e in largo per gli Stati Uniti per molti anni su quattro settimane tre le passavo in volo tra uno stato e l'altro ho visto tutti gli stati a parte l'Alaska e faccio le foto per strada o fermo la gente per strada mi è indifferente ma sei sei di Vicenza? sono vicentino sì non ho perso la gente sono vicentino mia moglie è cubana mio figlio è nato a Miami lei è nata a Cuba io a Vicenza mia figlia io a Padova sono solo nato a Padova e mia figlia è a Vicenza perché un anno siamo stati lì siamo ritornati indietro ma se se mi capitasse di tornare in Italia tornerai volentieri perché ultimamente mi piace dopo Trump mi è piaciuto molto poco l'America devo dire personalmente ma anche quando hai detto tu per esempio prima hai citato Robert Frank io ho 19 libri di Robert Frank ecco per me è come per un pornologo vedere Rocco Sifridi per me è Gesù Robert Frank è il massimo vita morte miracoli di lui e dell'Arbus ma lui è stato accusato di essere un comunista ma lui aveva l'amore per l'America è quello che è comico perché lui amava l'America lui voleva scappare dalla Svizzera perché gli stava stretta è venuto in America ed è rimasto affascinato io ho un'affinità con lui perché sono europeo posso capire cosa ha provato uno che vive nella Svizzera che cazzo c'è da prendere sonno a guardarsi attorno e che si trova a New York ma lui proprio non voleva assolutamente fare un'accusa sociale o una critica lui fotografava quello che lo colpiva poi quella foto che avete mostrato prima della donna che l'ha badante col bambino in mano cioè l'America ti fa pensare sta roba perché il caso strano sono sempre i neri che fanno certi lavori i luci da scarpe e il nero il poveraccio cioè è un paese molto razzista e molto classista proprio molto ecco io parlerò più di queste cose qua che non della mia fotografia fotografie sono un pretesto per dire quello interrompo Franco come al solito mi devo interromperlo ma è per comunicare che martedì prossimo Franco Campesato che adesso avete conosciuto mi sentivo all'estero da tanti anni è un grande appassionato di street photography grande appassionato poi di camera oscura ci farà vedere le sue foto che sono sempre di grande impatto intanto per questa sera ringraziamo sia Verde Oliva che Romagnosi e l'ora si fa tarda sono le 11 e un quarto e speriamo di trovarci presto non in covid period direbbe Franco ma di persona è così andiamo tutti a trovare Franco come? esatto buon vino ce l'ho sempre buon vino ce l'ho sempre signore vi ringrazio vi saluto grazie a tutti 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 buonanotte 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 grazie dell'opportunità grazie ciao ciao San Paolo sei ancora lì U stretto ciao ciao Nico finalmente ci vediamo ci abbiamo messo un po' come state? approfittiamo di questa ho aspettato un attimo prima di intromettermi completamente perché non volevo assolutamente interrompere la bellissima serata, discussione però volevo davvero salutarvi perché poi alla fine in Ligure diciamo tra una beninata e l'altra non c'è mai stata l'occasione di vedersi stai attento che appena ci liberiamo in Olanda ci devo venire quindi ah allora Gianpaolo fatima vivi in Olanda quindi io spero che sto covid finisca in fretta perché io ho mia figlia in Olanda tu Umberto lo so non c'è non c'è Grazie a tutti.